Meno slogan, più sicurezza. È a questo motto che il Comitato a Rezunita salirà il prossimo martedì in Piazza della Libertà, una manifestazione in contemporanea con il Consiglio Comunale a partire dalle 14.30. Residenti e commercianti che vivono e lavorano nella zona dei Giardini del Porcinai hanno infatti deciso di organizzare un sitin pacifico e civile per chiedere più sicurezza e tutela. L'area, a pochi passi dalla stazione, nelle ultime settimane è finita ripetutamente sotto i riflettori della cronaca cittadina. Prima un tentato omicidio, poi il risse spaccio. Ormai è diventata come fosse una routine. Tutto questo crimine diffuso, microcrimine, ormai sembra diventato l'ordine del giorno. Se non sono di sera, sono nel primo pomeriggio, varia solo l'orario, diciamo, ma le risse rimangono sempre all'ordine del giorno. Disperazione, scorrezzamenti in qua e là, berci di bambini, spaccio, c'è di tutto e di più. Da marzo ad oggi almeno cinque momenti in cui le forze dell'ordine sono dovute intervenire. Un senso di insicurezza da parte di cittadini e commercianti che cresce giorno dopo giorno. Posso capire se qualcuno abbia timore a passare per questa strada. Le stesse organizzazioni di categoria, confesarcenti e confcommercio, nei giorni scorsi avevano scritto alla prefetta di Arezzo, Maddalena De Luca, e al sindaco Alessandro Ghinelli per chiedere che venga intensificata la sorveglianza da parte delle forze dell'ordine potenziata all'illuminazione pubblica anche in via provvisoria, in vista della riqualificazione dell'aria, come annunciato dall'amministrazione comunale. Da parte mia ci vorrebbe un presidio fisso, proprio come è stato fatto in altre città, in altre zone così degeneranti, perché qui la situazione sta peggiorando, sta precipitando vorticosamente.